Le ricerche, dopo due giorni di grande mobilitazione sulle montagne del Triangolo Lariano, sono terminate questa mattina intorno alle 11, quando in località Alpetto, nel comune di Oliveto Lario, è stato ritrovato il corpo senza vita di Leonardo Gerosa, 77enne di Roggeno disperso da mercoledì sui monti di Magreglio, dove era andato a cercare castagne. L'ultimo contatto telefonico con la famiglia nella serata dell'8 ottobre. Gerosa si stava dirigendo verso l'automobile per tornare a casa quando si è accorto di non avere più le chiavi della macchina ed è quindi tornato nei boschi per cercarle. L'uomo poi avrebbe chiamato la moglie per dirle di essersi perso fra i boschi e per raccontarle di essere caduto e di essersi fatto male. Dopo l'ultima telefonata con la famiglia, nella serata di mercoledì, dell'uomo si sono perse le tracce. Coordinate dal comando provinciale di Como dei carabinieri, le ricerche sono partite immediatamente. Un centinaio le persone impegnate. Sul posto i carabinieri di Asso e Bellagio, i vigili del fuoco con sei squadre, compresi i cinofili di Torino e i topografi di Varese, il soccorso alpino, la guardia di finanza, la protezione civile e perfino questa mattina un gruppo di cacciatori di Lasnigo, grandi conoscitori delle montagne di Magreglio. Il triste epilogo poco prima delle 11, con il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo fra i monti sopra Oliveto Lario, in località Alpetto. Ancora ad accertare le cause del decesso. Il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria di Lecco.